Sono piacevolmente stupito in un mondo di persone che invecchiano Per te gli anni non passano mai Mentalmente dimostri ancora cinque anni Auguri Qual è il miglior regalo per te? Ovviamente queste Un regalo per te? Non saprei Ci vorrebbe qualcosa che non hai Queste due potrebbero andare bene per esempio Eh? Ehi, io ho una buona memoria E ricordo che giorno è oggi Oggi è il tuo compleanno Auguri Un anno in più Che fortuna Eh poco Non ti servirà più Il dentista Ehi, ti ricordi che giorno è oggi? M'è certo che sì So che è un giorno molto particolare per te Un giorno che ti renderà un po' più maturo La mentira in regalo ti arriverà per posta Io ti aspetto qui in auspizio Oggi è il tuo compleanno Vediamo se riesci a contare tutte le candeline Sono troppe Non conti più un cazzo Ho pensato di farti degli auguri di compleanno mistici Concentrati Concentrati Ascolta la musica Leggi questa frase Molto lentamente Sappi che hai appena recitato Un'antica frase indiana Che non ti farà trombare per i prossimi sette anni Auguri Perfettamente